Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network, direttore Mario Vollono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chi che ha bisogno di realizzare un sogno deve incontrare una mano, una mano tesa e chi se non l'ente pubblico può farlo. 10.000 euro è solo un modo per dirgli bravo, grazie per l'impegno che hai profuso, continua. Ma poi c'è il sostegno della banca, della finanziaria, l'ho detto l'avvocato, il presidente dell'IFES, che ha fatto un finanziamento in base al business plan dell'azienda per mettere il giovane nelle condizioni di muovere i primi passi. Sostenuto da un finanziamento senza garanzie, al di là della possibilità di dimostrare che l'impresa potrà nel tempo da sola fare il reddito. Il presidente della regione ha fortemente voluto questo premio. L'idea è quella di dare ai giovani siciliani una speranza, giovani che sono inoccupati e disoccupati e da cui l'IFES, insieme al governo della regione, vuole dare testimonianza di essere vicini. Non solo per il premio in sé, che sono 10.000 euro per ciascuno dei ragazzi che verrà premiato, ma soprattutto perché l'IFES metterà a disposizione loro un ulteriore fondo, un finanziamento per realizzare concretamente la propria idea di impresa. Spesso, troppo spesso, purtroppo, queste idee finiscono nel giro di qualche mese. I ragazzi non hanno la forza per sostenerle, non hanno le garanzie da offrire. L'idea del presidente della regione è quella di dare uno stimolo a loro e di dare anche il sostegno concreto perché la loro idea di impresa possa realizzarsi in concreto.